La situazione alla Betafence, l'azienda e Tortoreto che produce sistemi di recinzione, torna a far preoccupare i lavoratori. Questo perché nell'incontro avvenuto tra le organizzazioni sindacali e i vertici del gruppo Presidia e dei proprietari dell'azienda, fortemente voluto per fugare i dubbi sul futuro e dare notizie sulla ripartenza dell'azienda Tortoreto e sul destino degli oltre 100 dipendenti, si è risolto con un nulla di fatto. Siamo francamente preoccupati rispetto ad una discordanza tra quella che è l'argomentazione dell'azienda e la realtà che le maestranze in questo momento stanno lavorando. Quindi abbiamo visto questa rappresentazione per titoli, abbiamo richiesto di inviare una lettera di istanze precise e specifiche rispetto al numero dei lavoratori che rimarranno dopo il contratto di solidarietà, rispetto agli investimenti, quantificare gli investimenti ma soprattutto dare un cronoprogramma rispetto a quando questi investimenti verranno fatti e da lì poi fare delle dovute considerazioni ed eventuali azioni. Qui c'è una piena continuità sul fatto di svuotare lo stabilimento sia in termini di attività produttive e soprattutto non si vede quegli investimenti e quelle azioni propedeutiche per una continuità produttiva. Basti pensare che hanno definito per l'ennesima volta il sito del Tortoreto un pollo di eccellenza dell'Anima Sbandri e ancora continuiamo ad esternalizzare delle attività proprio dell'Anima Sbandri presso trezisti e lasciando a casa più di 112 lavoratori che di fatto sono quelli che stanno investendo maggiormente sulla Betafence per la perdita del salario che queste scelte eccellerate sta producendo. Una condizione su cui i sindacati vogliono vederci chiaro, visto che nel mese di maggio 2023 scadrà il contratto di solidarietà. Quest'Anima Sbandri di cui vanno notando non se ne vede la luce. Non è vero che comunque ci sono state delle assunzioni, come ci hanno detto, delle assunzioni, poi quando parlano di assunzioni parlano di alti livelli, non di operai locali. Quindi noi continuiamo, abbiamo fatto le domande dirette, non ci è stata data risposta, in particolar modo sul fatto di quante persone resteranno nel 2025. Vanno scappando e soprattutto fanno come dei giocoglieri che svigolano la domanda all'altro. Questo non è più accettabile, è ovvio che noi ci dobbiamo adesso aspettare nei prossimi mesi qualche risposta da parte nostra e dei lavoratori, perché la dobbiamo smettere di correre dietro noi a loro, ma stavolta bisogna che corrono loro dietro a noi.